Soddisfatti per la vittoria o c'è un po' di rammarico perché la traversa di Kier, il giocare gli ultimi 10-15 minuti con l'uomo in più si poteva fare di più in vista del ritorno? No dai, guardiamo sempre, mi piace vedere sempre la cosa positiva, il lato positivo delle cose, sinceramente una partita che penso che abbiamo meritato alla fine, partiremo in vantaggio sicuramente sarà una partita ancora aperta con tutto il ritorno, ovvio che potevamo secondo me fare meglio ma potevamo anche subirlo perché anche loro qualche occasione che poi andremo ad analizzare ce l'hanno avuta, quindi abbiamo vinto, chiudiamo qua questa partita che è stata fantastica, un pubblico fantastico e penseremo alla prossima Davide che ti sei fatto di questo avvio un po' se vogliamo sciocca che avete avuto, loro hanno creato 7 occasioni nei primi 12 minuti, cosa è successo in quel momento, siete partiti troppo tesi? No, ci sono stati degli errori credo individuali che potevano un po' costarci, hanno talento anche loro, non c'è niente, c'è poco da dire, se sono una squadra forte non è un caso che sono così avanti in campionato quindi ci sta che abbiamo creato delle occasioni, comunque poi noi siamo usciti, abbiamo trovato le misure, le giocate che abbiamo analizzato, studiato, le abbiamo riusciti a mettere poi in partita abbiamo trovato gli spazi che poi ci hanno creato delle occasioni anche a noi, diciamo che come tutte le partite ci sono momenti in momenti che è un po' in vantaggio loro, un po' in vantaggio nostro, però credo e penso che abbiamo fatto un'ottima partita Grazie, ciao, grazie Ciao Davide, ciao ragazzi